Prima in Veneto, seconda in Italia, Treviso è la provincia con il più alto numero di contagi dietro solo a Trieste. Un primato che lascia atterrito anche il direttore generale Francesco Benazzi che oggi ha contato su 9.800 tamponi effettuati il record di positivi della quarta ondata, 1.515. 1.515 è una cosa spaventosa, è una sensazione prima di tutto di tristezza perché chiaramente mi rendo conto che andiamo di fronte a un periodo difficile e poi anche un po' di depressione se devo dire e dopo anche di sconsolatezza perché come dire ci sentiamo quasi impotenti di fronte a questa nuova montata, a questa nuova ovviamente quarta ondata. Nella marca, annuncia il DG, ci sono 63 comuni con un'incidenza superiore ai 500 casi ogni 100.000 abitanti. Ad aggiungere carico emotivo anche l'ennesimo atto vandalico che si è verificato questa notte al centro tamponi di Altivole dove i gnoti hanno divelto il palo dell'illuminazione all'ingresso tranciando un cavo e facendo saltare la corrente, poi hanno asportato un faro a led. Danno immediatamente individuato dal Vigilantes che ha causato un rallentamento di mezz'ora al lavoro dei sanitari, poco dopo ripristinato. Intanto anche il pronto soccorso ha in sofferenza con centinaia di chiamate in entrata nelle ultime 24 ore, per la maggior parte positivi non vaccinati e con sintomi. Noi ci troviamo in una condizione che il SWEM arriva anche a 500 chiamate, 500 chiamate al giorno. Di questi buona parte sono Novax ovviamente a casa, positivi di questi 1.500 e altri nelle varie giornate, che manifestano sintomi e cominciano ad avere paura. La speranza è ora che le vacanze natalizie con lo stop al 23 dicembre delle lezioni diano tregua alla catena di contagi in classe innescata da settimane. Il 18% dei positivi nella marca ha meno di 12 anni. A Treviso ci sono oggi 66 classi in quarantena, 441 in monitoraggio. Per questo i punti tampone di Conediano, Casiere e Castelfranco, sempre da oggi, sono stati convertiti solo per screening scolastici. Spero che l'esperimento funzioni e il messaggio che mando a tutti è che i Covid Point che abbiamo aperto per le scuole sono solo per le scuole. Verrete contattati con un'email, i genitori, quindi saranno solo per voi per evitare che i bambini facciano le code. 9.700 le vaccinazioni effettuate ieri, un dato record, oltre 3.500 ad Ormelle. Ora che si contano anche i più piccoli, la copertura vaccinale nella marca è del 77,8%. 9.700 le vaccinazioni effettuate ieri, un dato record, oltre 3.500 ad Ormelle. 9.700 le vaccinazioni effettuate ieri, un dato record, oltre 3.500 ad Ormelle.